ciao eccoci alla nuova diretta del martedì oggi martedì 4 febbraio e non fa freddo rispetto a ieri un pochettino di più il meteo oggi un po nuvoloso c'è qualche nuvola sparsa ieri ci sono state delle temperature veramente alte addirittura hanno sfiorato i 18 gradi che direi un po anomalo però non vogliamo sempre parlare del tempo perché ci sono degli altri argomenti molto più interessanti di cui parlare come sai un calendario valtellinese si occupa di eventi quindi promuovo pubblicizzo parlo sempre degli eventi che ci sono dalla valtellina e val chiavenna tutto quello che succede lo puoi trovare sul sito www.calendariovaltellinese.com ma se ci segui anche sui sui nostri social resti sempre informato su quello che c'è da fare oggi volevo parlare di un qualcosa di tipico valtellinese perché mi piace ogni giorno andare a cercare un argomento un argomento un po interessante legato in un qualche modo alla valtellina le sue tradizioni alla sua enogastronomia è una cosa che che ha attirato molto l'attenzione la settimana scorsa quando ho messo ho messo il post e l'articolo è la pesteda la pesteda che è tipica proprio originaria di grosio e di cosa si tratta si tratta di un condimento speciale che si utilizza in particolare per insaporire qualcuno i pizzoccheri qualcuno la carne qualcuno le patate i pizzoccheri generalmente vengono conditi con il pepe però qualcuno ci mette anche la pesteda e qualcuno invece no sui pizzoccheri assolutamente no ma io dico sempre è una questione di gusti se a qualcuno piace la pesteda perché no a me ad esempio piace molto sulle patate lesse e perché gli dà un sapore molto particolare anche perché i suoi ingredienti sono sono speciali poi devi sapere che ogni ogni grosino che prepara la pesteda ha il suo trucco la sua ricetta particolare perché oltre a metterci il pepe nero il sale le bacche di ginepro poi l'erba iva il timo selvatico insomma ognuno ci mette i suoi ingredienti prepara la sua pesteda a casa io sono fortunatissima perché me ne hanno regalato proprio un vasettino ma non di quella che trovi in negozio è proprio è proprio prodotta in casa dalla signora luciana che a me ne ha fatto me l'ha regalata e la tengo preziosa quando apri il vasetto l'odore di aglio e pepe è fortissimo cioè da annusare se uno adesso magari rischio anche di mettermi a starnutire è veramente forte però sul sui cibi sulle verdure sulla carne secondo me da quel valore aggiunto che è diverso dal pepe un sapore particolare e dimmi se ti piace la pesteda se se la conosci se l'ha già utilizzata se l'hai già preparata perché se poi cerchi su calendario valtellinese nella sezione rubriche vai a cercare le ricette trovi anche la ricetta per fare la pesteda io non ci ho mai provato perché io credo che farla buona come la fanno a grossi sia impossibile poi me l'hanno regalata quindi non mi ci mento però chissà mai che un giorno magari con gli ingredienti giusti si possa tentare di preparare anche questo questo condimento che in tante persone chiedono e non non spesso non c'è spesso non è facile da trovare però in alcuni negozi tipici che vendono prodotti valtellinesi si può trovare la pesteda ecco la pesteda dicevamo è originaria di grosio e quindi vorrei parlare anche di un altro evento che c'è di un evento particolare che c'è in questi giorni a grosio dal 18 gennaio al 16 febbraio c'è la settimana del formaggio svizzero dove all'hotel sassella ristorante gym è un ristorante famosissimo dove puoi mangiare tutti i formaggi svizzeri quindi non solo formaggi valtellinesi ogni tanto si spazia andare a cercare anche altri altri sapori altre cose da da gustare quindi puoi assaggiare un pasto completo un menù completo con formaggi di pasta dura extra dura come lo sbrinza poi il semi dura la racletta pasta molle brie suisse insomma ho tutta una serie di formaggi ricercati molto particolari che magari solitamente non acquisti perché se sei in valtellina acquisti il formaggio valtellinese e difficilmente andiamo magari a prendere formaggi svizzero invece in questo caso tagliti la voglia di qualcosa di un po' svizioso e quindi prenota al ristorante gym sassella e con un menù di 30 euro quindi un prezzo assolutamente accessibile per tutte le portate che sono proposte se vai a cercare sull'evento su calendario valtellinesi vedi veramente sono tantissime cose io direi che ne vale veramente la pena come vale la pena di dire qualcosa a proposito dell'hotel sassella l'hotel sassella è conosciuto da da tutti io credo perché jim sassella ha fatto la storia a grosio con il suo hotel con il suo con il suo ristorante io ci sono andata a mangiare alcune volte e devo dire che l'atmosfera che si crea quando entri in questo luogo è molto particolare non so è come se ti avvolge una una tranquillità ti mettono a tuo agio parte il servizio che eccezionale la cortesia ti spiegano cosa stai mangiando che questa per me è la cosa fondamentale quando vai in un ristorante e ti dicono stai mangiando la carne di non so di cervo cucinata in questo modo con queste con questi prodotti con queste materie prime eccetera oppure stai mangiando la bresaola il prosciutto che proviene da per me è un valore aggiunto perché significa educare la gente per quello che sta mangiando perché il cibo fa la differenza non tutti i cibi sono uguali non tutte le cose che mettiamo nel piatto hanno lo stesso valore lo stesso sapore e quindi se mangio qualcosa di particolare di pregiato ma neanche di pregiato comunque di ricercato di inusuale è giusto saperlo quindi ecco da ristorante i gyms a sella a grosio ti dicono anche queste cose poi c'è l'hotel che è molto bello con delle camere molto molto accoglienti per i turisti ed è una meta anche molto comodo da raggiungere perché è un po metà strada tra bormio e tirano e di conseguenza anche i turisti si fermano volentieri poi ecco poi c'è una cosa quella l'ho provata è la spa una spa all'interno del centro benessere margherita all'interno dell'hotel che è aperto anche ad esterni quindi su prenotazione puoi andare e goderti qualche ora di relax facendo un po di idromassaggio un po di sauna un po di bagno turco insomma tutto quello che che può servire anche solo un paio d'orette di relax perché no e se lo possiamo fare a casa vicino insomma grosio è subito raggiungibile io parlo da sondrio non ci vuole tantissimo grosio è un paese con una sua storia è un paese secondo me anche molto campanilista nel senso in senso buono e nel senso che che tiene molto le sue tradizioni tiene molto a quelle che sono la sua storia la gente è molto unita e anche se insomma non è proprio facilmente raggiungibile però la gente è bene accolta il turista è bene accolto grosio infatti c'è un qualcosa di molto speciale particolare è il castello e i due castelli che ci sono e il parco delle incisioni rupestri ecco anche quello è una chicca un qualcosa di prezioso che la valtellina deve deve far conoscere sempre di più perché a volte andiamo a cercare le cose belle nelle altre province nelle altre regioni mentre invece abbiamo vicino a casa nostra qualcosa di bello da visitare quindi se vi capita di andare a grosio beh tassativamente dovete mangiare da da jeans a sella perché comunque i menù sono eccezionali poi ti puoi riposare magari un attimino un po di relax nella nella sua spa e poi ti fai un giro anche il parco del parco delle delle incisioni rupestri e poi bellissima c'è la c'è malghera e la valgrosina e ita anche quelli sono luoghi molto belli in particolare in estate per fare delle passeggiate vedo di quelle foto io ci sono stato solo un paio di volte però è veramente bello vedo di quei panorami anzi voglio ringraziare tutte le persone che ci mandano le fotografie le foto da condividere io per motivi di tempo e di lavoro non posso arrivare dappertutto e volte scopro degli angoli di valtellina proprio grazie alle fotografie che mi mandate voi che mi mandi tu ricevo spesso sul sul telefono sul numero dove mandiamo gli eventi di whatsapp io dico sempre mandatemi delle foto belle da condividere quindi sono contenta di condividere su nostri sulle nostre pagine di instagram e facebook per far conoscere a tutti anche chi è fuori dalla valtellina cosa c'è di bello da vedere e ho scoperto dei luoghi veramente particolari che non immaginavo assolutamente ci fossero sul nostro territorio è una scoperta anche per me sono valtellinese al cento per cento però sono sincera ci sono delle cose che ancora non ho non ho visitato e chissà mai che riuscirò a fare tutto però mi piace parlare di queste cose mi piace quando la gente da fuori ci segue da fuori valtellina dice che bello magari gente che viveva in valtellina poi se n'è andata è andata all'estero l'altro giorno ad esempio ha commentato un signore che è emigrato in australia ha detto che è tornato undici volte in valtellina e quando parla un po delle tradizioni delle foto eccetera ha detto che bello perché comunque nostalgia però mi ricordi la mia terra d'origine ecco un po l'obiettivo mio è quello di far ricordare la valtellina che ci vive in primis quindi a me a te che mi stai seguendo e anche a chi è fuori e che magari l'ha dovuto abbandonare per motivi di lavoro perché se trasferito all'estero quindi un territorio che vale la pena di conoscere che a volte è un po bistrattato ma a volte non è molto molto apprezzato e invece ci tengo a promuovere tutto quello che c'è di bello in valtellina perché ne vale veramente la pena abbiamo delle montagne stupende abbiamo dei paesaggi veramente spettacolari e dobbiamo solo imparare a rispettarlo un po di più e secondo me a godercela per quello che ci dà quel ci dà poco ma accontentiamoci di quel poco perché vi garantisco che andare fuori e chi ha troppo poi perde veramente quella che è l'essenza invece della vita del trascorrere di vivere un po lentamente insomma è quello che succede in valtellina ora volevo comunicare il nome del vincitore anzi della vincitrice dei che ha commentato i video della scorsa settimana sai che ho detto che ogni settimana tra le persone che commentano quindi scrivono sotto qualcosa sotto questo video mentre stai guardando ciao oggi puoi parlare della pesteda puoi dirmi se l'hai già assaggiata se l'hai già preparata eccetera tra tutte le persone che interagiranno e estraggo qualcuno a cui mandare un regale un gadget ok a sorpresa quindi la scorsa settimana ha vinto vincenza gallo e che contatterò personalmente privatamente per chiedere l'indirizzo e mandare mandare questo questo gadget quindi se anche tu sarai se tra le persone che hai voglia di commentare dire qualcosa io poi rispondo tutti magari non nell'immediato però però a tutti rispondo e potresti vincere un gadget di calendario valtellinese quindi scrivi qui sotto scrivi mi mandami tuoi saluti e fammi sapere se ti piacciono i video e vorrei anche sapere se c'è qualche argomento di cui dovrei parlare a volte mi dico ma di cosa parlo oggi cosa cosa mi invento ma non c'è niente da inventare perché sono sono talmente tanti gli argomenti da toccare in valtellina che c'è solamente da andare a prendere decidere cosa fare e di cui è qualcosa di cui parlare quindi io vado un po' a braccio e sappiate che non preparo assolutamente nulla cioè magari dico sì parlo di questo e di quello lo decido mentre vado a passeggiare col canna la mattina poi arrivo davanti davanti al telefono e mi metto a chiacchierare ciao ciao claudia claudia daria sala poi c'è paolo ciao paolo da modena io degli amici a modena degli amici carissimi che ho frequentato specialmente nel periodo del terremoto perché dovete sapere che io quando calendario valtellinese si era appena nato perché è nato nel 2011 nel 2012 c'è stato il terremoto in emilia adesso vi racconto una cosa un po' così che non c'entra niente però io proprio perché avevo degli amici che sono stati colpiti da terremoto in quelle zone avevo organizzato una raccolta di vestiario di vivere di tutto avevo accatastato tutto nella in una in una zona in una zona di sogni un locale di sondro e avevamo avevamo riempito otto mezzi della protezione civile e avevamo portato tutte queste cose in emilia romagna per aiutare queste persone che avevano perso tutto durante il terremoto è stata un'esperienza molto toccante avevo avevo fatto tutto da sola così mi era partita questa richiesta da parte di amici avevo contattato i campi di emergenza avevamo avevamo acquistato lavatrici avevamo portato acqua levissima ci avevo biscotti insomma di tutto e di più ed era stata una cosa veramente veramente bella con tante persone tanti volontari che mi avevano supportato questa è una di quelle cose che ho fatto con il cuore e che mi resteranno resteranno sempre sempre dentro quindi un saluto anche agli amici da modena ora ti saluto anche la diretta di oggi è passata mi raccomando se vuoi ricevere gli eventi su calendario valtellinese devi mandare un messaggio su whatsapp al numero 393 0806066 un messaggio con scritto eventi e ti e ti inserisco nella lista per inserire per ricevere gli eventi due volte la settimana e quindi rimanere informato su tutte le cose belle che ci sono in valtellino le campane di sant'anna stanno suonando quindi al segnale quando devo finire suonano le campane per dirlo ed hai parlato abbastanza per oggi è troppo ti ringrazio ancora grazie per avermi per avermi seguito se hai voglia condividi questo video perché voglio fare conoscere quello che c'è di bello in valtellina a più persone possibile e anche per oggi è tutto buona giornata e a domani ciao